Ci siamo pronti alla ripartenza in questa che diventa una delle più grandi sfide che abbiamo mai fatto nella nostra vita. Una vita in campo personale ma soprattutto in campo professionale. E allora è importante ripartire insieme. Ecco, restart insieme perché un pugno fa più male di cinque singole ditate. Il pugno è la metafora che tanti piccoli ditan raccolti insieme possono fare la differenza, sferrare un attacco più forte perché nei periodi di difficoltà bisogna uscire dall'isolamento. Le difficoltà ci mettono in una condizione di introspezione, ci mettono a volte nell'angolino, ci mettono nel disagio di poter fare un'azione prorompente e proprio per questo abbiamo bisogno degli altri. Nessuno mai è in grado di riuscire a realizzare da solo qualsiasi tipo di grande impresa. E quindi un po' come la storia della rappa di Tolstoi. Ero affascinato da bambino da questo vecchietto che nell'inverno lungo e rigido doveva tirare fuori dal suo orticello una rapa ma non ce la faceva perché era molto grande e allora ha chiesto l'aiuto alla nonnina, non ce la facevano, chiese l'aiuto ai figli piccolini ma ancora non ce la facevano e chiese l'aiuto infino a cane, gatto e topo. E tutti insieme, anche a volte nemici per eccellenza o in contrapposizione a dimostrazione che l'unione fa la forza, l'unione è forza e proprio nei periodi di difficoltà come quello che stiamo attraversando abbiamo bisogno necessariamente di ripartire insieme per poter sinergizzare e in questo modo energizzare la nostra propulsione nei confronti di tutte le attività che ci aspettano da qui al prossimo periodo. E quindi buon restart!